Salve a tutti amici ascoltatori, oggi mi ritrovo qui per riportarvi alcune notizie che sono trapelate nel corso dei giorni scorsi. Praticamente la rivista Korokoro, che come sapete è un mensile giapponese riguardo ai videogiochi, ci ha mostrato in anteprima alcune immagini dei nuovi videogiochi. Quindi, men che non si dica, direi di vederle tutte ad uno ad uno ed esaminarle nei vari particolari. Allora, iniziamo subito con la prima immagine. Come vedete, questa prima immagine ci mostra uno scontro tra titani, ovvero tra Graudom e Chiogre, leggendari dei due giochi. All'apparenza sembrerebbero i classici Graudom e Chiogre, che abbiamo conosciuto nei videogiochi di terza generazione. Ma in realtà non è così, questa brillantezza che li avvolge, in realtà è un nuovo potere misterioso, di cui ancora si conosce poco. Sulla rivista, riguardo a questi due nuovi leggendari, si dice che avranno appunto queste due nuove forme, definite forme preistoriche, che potranno essere raggiunte dai due Pokémon soltanto attraverso un processo nuovo chiamato Devoluzione Antica, di cui ancora non conosciamo bene i particolari. Successivamente, nell'immagine che adesso vi mostrerò, sono state rivelate nuove Mega Evoluzioni. Nuove Mega Evoluzioni degli Starter. Infatti, oltre al Mega Bluzzing, che già conoscevamo da Pokémon X e Y, sono stati annunciati Mega Sheptile, che assumerà il tipo Erba Drago, e possiederà l'abilità Parafulmine, una volta raggiunta questa nuova forma. Inoltre, vi sarà anche Mega Swampert, che sarà di tipo Acquaterra, quindi manterrà i suoi tipi originari, e avrà l'abilità Nuoto Velox. Infine, a sorpresa, ci sarà anche una Mega Evoluzione per Densi, o non so come pronunciarlo bene, spero di averlo fatto giusto, che, come sapete, è il leggendario di Pokémon X e Y, che sarà distribuito tra un mese in Giappone, appunto, in contemporanea con il nuovo film dei Pokémon. Questa Mega Evoluzione sarà di tipo Roccia Folletto, ed avrà un'abilità ancora sconosciuta, che probabilmente verrà rivelata nel corso delle tre nei prossimi giorni. Tra i personaggi ci sarà il ritorno di Steven, che in italiano viene detto Rocco Petri, ovvero il campione della Lega, che avrà un Charizard X e sarà alla ricerca del segreto della Mega Evoluzione, un po' come noi in Pokémon X e Y. Vi saranno i ritorni, ovviamente, dei leader e dei tenenti, dei team, scusate, idro e magma, appunto, ovvero Maxi, Archie, Courtney, Tabitha, Matt e Shell, e poi vi è anche un nuovo design per i due protagonisti, ovvero Vera e Brandon, che vi mostrerò in questa immagine qui, esattamente. E' stato leggermente modificato, e questo gli dà un tocco, diciamo, un po' più, un tocco di novità, diciamo. E ad alcuni, ho letto in alcuni commenti su alcuni blog, che non è piaciuto, però, io non li trovo, diciamo, così male. Diciamo un design un po' più estivo, se così lo possiamo definire. Comunque, le notizie sono terminate qui, ma state tranquilli. Ve ne saranno, sicuramente, molte altre durante le 3 e, naturalmente, ci sarò io qui per commentarle. Quindi, ci vediamo con le prossime notizie. Grazie a tutti di avermi seguito. Grazie a tutti.